Hanno ucciso tutti. Non meritavano questo. I cadaveri conducono verso il fiume. Spartani morti. E altri lungo il fiume. Devo scoprire chi è stato. Come fanno i persiani a sapere chi sono? Uccisioni pulite. Questi persiani non si sono accorti di nulla. Guardie, devo essere sulla pista giusta. Il soldato scelto. Qualcuno l'ha raggiunto prima di me. Qualcuno diabile. Chi sei tu? Quella lama. Che scoprire chi è stato. Grazie a tutti. 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 Dobbiamo andare, Nima. Arrivano altri soldati. Il nostro nascondiglio è sotto l'arco di roccia. Raggiungici. Grazie a tutti. Chi sono queste persone? Grazie a tutti.